Bella a tutti ragazzi, io sono Lucchino Hande, la compagnia dei nabbi, benvenuti in questo nuovo video molto breve per farvi vedere che finalmente è uscita tutta il pacchetto crew di settembre andiamola a vedere molto velocemente, non lo specifico, anche se già ormai l'avete visto sicuramente abbiamo la skin senza amore, che sarebbe la versione femminile della famosa skin wild card, andiamola a vedere in tutto il suo set, splendore dico io, perché a me piace un sacco abbiamo il dorso, carta da gioco, che richiama infatti la skin maschile poi abbiamo il piccone, stiletto letale una copertura, mano vincente, molto bella devo dire e una traccia audio, la fuorilegge senza amore allora c'è un piccolo pettegolezzo riguardo a questa skin ovvero si vocifera che sia collegata al prossimo evento di cui tutti parlano ovvero il concerto di Lady Gaga forse per la chioma diciamo bionda, bianca di questa skin però se sia vero o meno, non lo so, lo scopriremo prossimamente ovviamente la possiamo trovare in tutti i suoi quattro stili dei quattro semi delle carte da gioco che io utilizzavo per giocare a scala 40, tra le altre cose molto 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 bella stessa cosa anche per il dorso dalla versione maschile possiamo scegliere anche la stessa versione femminile della skin io vi ringrazio, vi saluto e mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina codice supporto a un creatore nello shop di Fortnite Lucchino N con la K tutto attaccato bella grazie a tutti